Buongiorno a tutti, buon primo novembre a tutti, spero che abbiate passato un buon Halloween, noi ci siamo divertiti un casino con Remotered, ma non siamo qua per parlare di Remotered, questo è un video relativo alle collezioni della Tana, o meglio le vetrine della Tana, e qua questa volta vi mostreremo l'Atari, un piccolo argomento relativo all'Atari, anche se non è una collezione esagerata come il Master System, Mega Drive, Super Nintendo o Sega Saturn addirittura, noi vi mostreremo quel piccolo che abbiamo e quello che purtroppo si riesce a trovare, perché l'Atari purtroppo non è, siccome non è molto richiesto nel mercato, noi ci limitiamo a mostrarvi quello che riusciamo a riuscire a requerire. Comunque, questo è l'Atari 7008, che dovrebbe, adesso apro una piccola parentesi, dovrebbe essere in grado anche di leggere qualche titolo dell'Atari 2600, io mi auguro sia così, non ho ancora avuto modo di fare un po' l'auto definitivo, perché voglio farlo con calma, poi farò un altro video parte dove vi mostro ciò che si può fare, addirittura è ancora segnato con le vecchie lire, proprio un reperto storico. Per quanto riguarda i giochi che noi abbiamo a disposizione, parto senza ombra di dubbio da i miei preferiti, Questa è la versione Atari 2600 del Mario Bros., al tempo per chi conosce la catena Mercatone 1 c'erano queste offerte, e la versione 7008 trovata di recente. Per chi non sa cos'è il classico Mario Bros., non è Super Mario Bros., ma bensì per Atari esiste un particolare gioco che è il Super Mario Bros., ma ha un altro nome, molto raro, dovrebbe chiamarsi Save the Princess o qualcosa del genere, quindi è un'altra cosa. Comunque, di ufficiale, c'è il classic Mario Bros., che era uscito sia per Atari 2006, e forse anche l'altro Atari 5002, se non mi ricordo male, esiste un altro Atari oltre il 2006 che il 7800, adesso non sono un grande esperto di Atari, però per quanto riguarda determinati giochi li conosco abbastanza bene. Comunque, questi sono i miei titoli preferiti, la cui giocabilità del 2006 è molto molto complessa, mentre il 7800 tende, ripeto, tende ad avvicinarsi abbastanza alla versione NES. Ovviamente direte, non è la versione NES, giustamente, perché le versioni Atari erano dei giochi alquanto complessi. Comunque, ciò che voglio mostrarvi anche, altri titoli dell'Atari, molto bello e storico, che ci ho giocato anche con l'Atari Flashback, è Galaga, classico gioco Blast Team, la classica navicella dove devi sparare agli UFO, anche Space Invader, forse Space Invader era quello più famoso, purtroppo a noi manca lo Space Invader dell'Atari, ma avremo modo di recuperarlo anche questo. Poi, altro titolo che ho sempre cercato, che mi ha regalato Chiara, nel lontano 2015, per Natale 2015, come mi sembra che ho il compleanno 2016, sono ricorso il più compleanno 2016, questo è DigDug, che da piccolo chiamavo sempre DigTug, chiamavo così, sicuramente questo è uno dei più famosi, scavare, gonfiare i nemici, farli esplodere, stupendo, poi anche con le scritte in italiano, ha il suo fascino, per di più avrei pagato anche una cagata, mi sembra, perché ripeto, i giochi Atari non è che hanno un grosso valore commerciale, come tanti altri, come adesso vediamo la pecora nera, considerato una merda, considerato di qui, considerato di là, sempre, come al solito, dalle persone che non ci hanno mai giocato e seguono le merde su YouTube. Chiusa parentesi. Io lo ammetto, questo gioco qua ha avuto i suoi difetti, ha avuto tanti problemi, io stesso ci ho giocato, è stato, allora, per chi non lo sapesse, apro una parentesi, questo gioco qua è il T dell'Atari 2600, il che ha portato anche, effettivamente, Atari in rovina, perché tra la pubblicità e il poco tempo a disposizione sono stati spesi tanti soldi che hanno dato Atari in debito, e di conseguenza è stato organizzato male, ma perché? Perché gli stessi sviluppatori del videogioco erano pressati, pressati, e hanno avuto poco tempo per realizzare un gioco così. Purtroppo è andata così. Non lo considererei un cesso di gioco, anche perché se lo si impara a utilizzare è fattibile la vincita, ripeto, ha la sua difficoltà, ma non è così terribile come tutti dicono. Solo perché uno segue l'altro, l'altro segue quello, copia quello, copia... è tutto un copia e incolla di cattiverie gratuite. Andiamo avanti. Storici centipede... Ce l'ho fanato, eh? Scusate, millipede e centipede. Stessi giochi simili, praticamente, adesso vi do una spiegazione, seguire un percorso molto indicato per ammazzare i vari insetti che si possono incontrare. Un gioco molto carino da consigliare, perché ovviamente non ha la console, esistono le emulazioni, quindi è possibile giocarci. Poi, Atari Circus, otto giochi in uno, in una cartuccia, con la possibilità di utilizzare due giocatori. Ci sono dentro uno e otto dagli uno e gli otto giochi, con il classico pad Atari. Veramente stupendo anche lui. Poi, Warlords, sì, giusto. È un gioco di strategia medievale, dove praticamente si dovevano difendere le nostre posizioni dai nemici, dall'avvento dei nemici. Erano i primi giochi di strategia medievale che si stavano per sviluppare, nulla a che vedere con i classici Total War, che siamo abituati a vedere tutt'oggi. Però è sempre questa la fase iniziale. Poi, anche questo, un gioco che mi ha regalato Chiara per il mio compleanno, 2016. Miss Pac-Man. Adesso direte, ma che cavolo è Miss Pac-Man? No, Miss Pac-Man è un gioco molto simile al Pac-Man originale e al Pac-Man Junior, dove c'è il figlio di Pac-Man. Miss Pac-Man è la moglie di Pac-Man, dove le equidinamiche sono molto simili al classico Pac-Man. Niente che da dire che è un gioco molto bello anche lui, però tendo a precisare che questa... Allora, quando vedete le scatole grigie, sono le ristante. Quando le scatole sono colorate, è la primissima edizione. Ok? Tendo a precisare questo. Poi voglio mostrarvi anche la console. Giusto per dare uno sguardo, visto che siamo già qui. È un video abbastanza corto sulle nostre vetrine, però ci tenevo a mostrarvi un po' il tutto. Anche perché non ho voglia di passare per quello che non vi mostro. Adattatore vecchio per Atari 7800. Il classico pad. Ancora tutto con la sua custodia scatola originale, scritta Atari e tutto. Cavo video. In questo pass si può fare tutto, ragazzi. Sto facendo tutto, chiaramente. Poi, infine, se non vi è una cagata, qua dovrebbe esserci, oltre alla console che vi provvedere, la pubblicità... Oh, guardate, la Atari 520. La Atari 520 con la tastiera. Come la Atari... Ah, la Atari ST, che praticamente era un concorrente dell'Amiga e del... Sì, beh, come verrà uscito. Oh, eccoli qua. La pubblicità... Sono ancora una vecchia pubblicità che è tenuta benissimo, eh. Eh, sì, qua c'erano veramente... di tutto. È un vero peccato perché Atari, ripeto, va fuori anche alla mia epoca. Io avendo 30 anni... Ma che stupendo, con tutti i documenti Atari e tutto, eh. Io, purtroppo, ho avuto l'Atari 2600, libretti, ho avuto l'Atari 2600 perché mio padre la possedeva già. Purtroppo, cosa successe? Che il fiume straripò e l'Atari mi andò a quel paese. Questa è la console Atari 7800. Bella, vero? Poi, un vero e proprio collaudo lo si farà in successione. Adesso io, purtroppo, non ho tempo e abbiamo tanti altri progetti gioieviari. Comunque questa è per quanto riguarda la nostra collezione Atari. Effettivamente, una collezione Atari abbastanza misera, potrebbero dire alcuni. Però, bene o male, noi, quello che abbiamo, questo è il nostro link per quanto riguarda questa console. Niente, ragazzi. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci sentiamo alla prossima con un'altra collezione relativa alle nostre vetrine. Però, non sarà così scarsa, ma sarà decisamente più potente perché dobbiamo valutare se fare la collezione Siga Mega Drive, che lì ne abbiamo tantissimi, oppure la collezione Siga Saturn. Ci penseremo. Comunque, alla prossima. Ciao ciao!